Ciao a tutti ragazzi, qui è Prism e benvenuti in un nuovo video. Oggi, a grande richiesta e in maniera quasi doverosa, vedremo come completare l'isterag della nuova mappa zombie, Mauer der Toten. La live in cui abbiamo cercato i vari step per poi completarlo al primo tentativo è andata molto bene, quindi vi volevo ringraziare sia per la partecipazione sia per gli aiuti dati in chat. A parer mio questo easterag si classifica sul podio tra quelli attuali di Cold War. Nel caso fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate e invece noi passiamo subito al tutorial. Tra le prime cose da fare, per iniziare con gli step effettivi, abbiamo bisogno di attivare la corrente, procurarci i pezzi per utilizzare Klaus e anche della Wunder Weapon. Per tutte queste cose, se non sapete come fare, trovate il link in descrizione. A questo punto dovremo trovarci intorno al round 10 e quello che vi consiglio subito di fare è incominciare a potenziare Klaus, il manichino introdotto in questo capitolo zombie. Per gli step futuri vi dico già che sarà necessario anticiparlo una sola volta, quindi senza i vari floppy disk. Per farlo dovremo naturalmente attivarlo per un costo di 2000 punti e dirigerci alla fabbrica di abbigliamento. Qui, se non l'avete ancora fatto, posizionate l'antenna a microonde. E noi sostanzialmente non dovremo più fare nulla, o almeno per il momento, perché lo scopo sarà quello di far totalizzare circa una trentina di decisioni a Klaus in prossimità di questo supporto simile a quello delle corazze. Sanno anche come indicazione magari non basatevi sulle kill, ma solamente sul colore dello schermo sopra il macchinario, il quale all'inizio sarà rosso, ma una volta finite tutte le kill necessarie diventerà verde, e poco dopo il manichino ci si posizionerà all'interno automaticamente, senza premere nulla. Ora entriamo in gioco noi, perché per un minuto dovremo proteggerlo dagli attacchi degli altri zombie. La zona incomincerà ad essere abbastanza infestata e spawneranno sia zombie normali che anche discepoli. Se subirà troppi danni il processo si interromperà, e lo farà tornare alla stazione di ricarica rendendo necessario ripetere lo step. Se invece in caso contrario siete riusciti a difenderlo per un minuto, vi troverete con Klaus potenziato. In poche parole adesso quando lo chiamerete durerà più tempo, e avendo un'arma potenziata farà anche più danni. Perfetto, ora possiamo procedere con il primo effettivo step, la zona del laboratorio. Qui dovremo avere sia la Wunder Weapon con il potenziamento inceneritore, sia Klaus attivo. Questo perché dovremo recarci all'accesso delle fogne e segnalando a Klaus questo muro, per intenderci quello che si trova poco più avanti delle corazze, lo spaccherà rivelandoci una porta chiusa. Per aprirla quindi ci spariamo con l'arma speciale di Mauer der Toten e il gioco sarà fatto. E adesso qui per registrare un altro step non sono entrato, però sappiate che subito dopo partirà un dialogo di Valentina, la quale farà spawnare una serie di zombie speciali esplosivi, quasi come se fosse un round bonus. Voi molto semplicemente dovrete ammazzarli, e potrete così proseguire con il secondo step. La ricarica dei contenitori. Allora, solo dopo aver finito quella mini sopravvivenza, vi sarà possibile interagire con due nuovi macchinari. Il primo, dietro di noi, conterrà tre contenitori vuoti, e come logica vuole, il nostro scopo sarà quella di riempirli tutti. Quindi ci interagiamo vicino e li raccogliamo uno per uno. Dovranno essere riempiti con le anime dei Tempest. Attualmente però, non essendo possibile trovarli nei classici round, dovremo servirci di un'esca che una volta utilizzata li richiamerà vicino a noi. L'esca la otterremo sprando con la Wunder Weapon alla scatolotta alla nostra sinistra. Si aprirà così una sorta di sportello, dal quale poco dopo potremo appunto prendere l'esca in questione. Non so se nel corso di diverse partite vi siete mai imbattuti in dei raccoglitori di essenze quadrati. Ecco, adesso ci ritorneranno utili. In ogni partita infatti ne potremo trovare tre in tutta la mappa, e la particolarità sarà che ad ogni restarte cambieranno di posizione. Ci sono sette diverse location, e nel caso in cui se ne scopriranno magari altre, in futuro, ne troverete tutte scritte in descrizione. Il primo posto in cui controllare è la stazione fantasma, quindi abbastanza vicino. Guardiamo il binario opposto a quello in cui è presente il Mewkick, e proprio sotto la biglietteria lo troveremo. Poi salendo in superficie, su Berlino Ovest, potreste trovare un raccoglitore di essenze esattamente qui. Il terzo spawn invece lo potreste avere nella strada Berlino Est, fuori dal bar in cui c'è anche il Pack-a-Punch. In alternativa controllate prima delle scale per andare verso la fabbrica di abbigliamento, e vicino a quel cassonetto potreste trovarlo. Se non ci siete ancora riusciti, provate allora a salire sul tetto di Korber, e proprio appoggiato su questo muro potreste avere il vostro contenitore per le essenze. In alternativa, per il quarto spawn prendete la zipline, e all'interno del lattico distrutto potrete trovarlo. Per la settima ed ultima location dirigetevi verso l'accesso alle fogne, e nel muro opposto a dove ci sono le corazze lo troverete. Passando ora al funzionamento, per ogni contenitore dovrete ripetere sempre gli stessi passaggi, che consistono nell'avvicinarsi alle macchinario, posizionarci il contenitore precedentemente raccolto, e poi successivamente lanciarci le esca. Questo farà nascere subito dopo tre tempeste, e mi raccomando vi serviranno tutti, quindi cercate di non sprecarli, perché dovrete ucciderli tutti in prossimità del contenitore, e così facendo la loro anima ne verrà risucchiata all'interno. Qui il numero dei tempeste necessari varia in base a quanti siete in partita. Se per esempio siete in singolo, come in questo caso, con soli tre tempeste avrete completamente riempito l'oggetto. In più giocatori invece ne serviranno il doppio, quindi sei. Capirete in ogni caso di aver finito perché comparirà un bagliore viola, e avrete la possibilità di riprendervelo. Qui mi raccomando fate attenzione e cercate già di avere delle armi buone, perché esattamente da dove vi trovate dovrete tornare al laboratorio e riposizionare il contenitore pieno da dove l'avete preso. Vi porterete per tutto il tragitto il contenitore sulle spalle, un po' come su Outbreak, e per questo ne verrete rallentati. Quindi vi ripeto, attenzione e soprattutto anche al treno. Perfetto, lo posizioniamo, recuperiamo l'esca, e ripetiamo lo step precedente per altre due volte. Ah, e una precisazione riguardo alle esche. La prima volta, ovvero quando sparerete per sbloccare lo sportello, avrete la possibilità di raccoglierle per tre volte di fila. Cioè, intendo, non è che andranno tutte all'interno del nostro HD, ma tipo dopo averla utilizzata la potrete riprendere, per un totale di tre volte, in un round. Dopo invece quello successivo potrete recuperarne solamente un'esca per un singolo round. In ogni caso, una volta inseriti tutti e tre i contenitori pieni, vi servirà una testata nucleare, e per quanto possa risultare impossibile trovarla, Klaus ritornerà a fare al caso nostro. Praticamente, non so se vi ricordate, ma all'inizio del tutorial avevamo parlato del suo potenziamento, e vi servirà per forza farlo, perché sennò non avrete la forza necessaria per fermare il treno dalla stazione fantasma. Quindi andiamo a chiamare Klaus, e recandoci nella stanza a destra del Mewkick, nella sala comandi, dovremo interagire per attivare lo scambio ferroviario. Una volta fatto, nel minor tempo possibile, servirà a dire al nostro manichino di posizionarsi sul binario sinistro. Per evitare incomprensioni, sarà comunque quello opposto al calcio del mulo. Poco dopo verremo avvertiti del passaggio di un treno, e se sarà stato fatto tutto correttamente, il treno verrà stoppato. Senza perdere altro tempo, ci dirigiamo subito al suo interno, e qui troviamo due oggetti, appunto la bomba che ci serviva, e anche una tessera, chiamata Tessera di Rico. Dopo averla raccolta, però, partirà un ulteriore dialogo con la dottoressa Valentina, in cui apprenderemo la notizia che questi oggetti non basteranno ancora per completare l'unità di conversione. Ci serviranno due pezzi di uranio, ed è qui che ci ritornerà utile la tessera appena raccolta, che, infatti, andando al rifugio, dove si può richiamare Klaus, sarà inseribile nel computer su questa scrivania. All'interno saranno presenti diversi file, li scorriamo tutti fino a chi non ci darà accesso negato. Sostanzialmente qui ritornerà utile ancora una volta il manichino di fianco a noi, che grazie ad una sorta di casco da hacker, riuscirà a violare il mainframe e attivare il satellite che ci serve. Per costruire il casco saranno necessari tre pezzi, gli spawn sono sempre gli stessi, quindi sono fissi, e li troviamo uno nel negozio di elettronica a Berlino Est, e per dropparlo dovremo sparare a delle radio presenti nel locale. Una su queste sarà quella corretta, nel mio caso mi ha dato un po' di fortuna e l'ho trovata al primo colpo, però le trovate comunque in questi posti. Per la seconda location invece torniamo allo spawn e spariamo all'antenna, cadrà e ci darà la sua parte. L'ultimo pezzo lo troviamo invece alla stanza fantasma, in un posto già visto, ovvero la biglietteria. Pariamo alla scatoletta in alto a destra e avremo anche la scheda elettronica. Perfetto, avendo tutto l'occorrente torniamo al rifugio e semplicemente tenendo premuto quadrato vicino a Klaus glielo implementeremo. Fate un po' di attenzione perché in base a come vi posizionerete vi darà la possibilità o di attivarlo oppure di costruire il casco. A noi sarà sufficiente costruirlo. Una volta fatto lo schermo del pc diventerà verde e sarà possibile attivare il satellite di destabilizzazione. Ora saliamo immediatamente in superficie e ci troveremo davanti all'armata eterea, composta da un megatone e due mimics rossi, quindi più potente rispetto ai classici. Li ammazziamo e il megatone lascerà per terra due pezzi di uranio, però diciamo che saranno due pezzi di uranio grezzi e dovremo un attimo fare dei passaggi. Da qui in poi avremo solo 5 minuti di tempo, se no moriremo. Allora, adesso qui non so se muore solo il player che lo trasporta o il proprio endgame. Diciamo che non ha voluto provare, nel caso fatemi sapere voi nei commenti se sapete cosa succede. In ogni caso raccogliamo la prima roccia e ci richiamo subito al tavolo da lavoro più vicino. Così facendo avremo un dispositivo contenente l'uranio. Quest'ultimo andrà preso e portato su un'estremità della zipline presente a Berlino Est. La zipline è quella che collega il tetto di Korber, passando all'interno dalla lettera O, fino all'attico distrutto, che è praticamente l'edificio dal lato opposto. E il megatone, essendosi slittato in due parti, come al solito, vi avrà lasciato non una ma due rocce di uranio, una per parte. E voi dovrete appunto prenderle entrambe, interagirci sul tavolo da lavoro e metterne una su un'estremità e una sull'altra. Se siete in singolo sarete obbligati a muovervi con un pezzo per volta, in più giocatori invece potrete farlo in contemporanea. Ok, così facendo, dopo averli posizionati anche sulla seconda zipline, si attiverà e facendoli scontrare creerà un'esplosione. L'esplosione farà cadere al centro una roccia decontaminata e qui il timer si fermerà. Quindi ci avviciniamo, lo raccogliamo e lo portiamo subito al laboratorio sopra l'unità di conversione. Ci aggiungiamo anche la testata nucleare precedentemente raccolta e ora sarà necessario ripetere tutto l'ultimo step, perché l'unità di uranio non era sufficiente. Quindi molto velocemente torniamo al rifugio, attiviamo il satellite, sconfiggiamo l'armata, raccogliamo l'uranio, costruiamo il dispositivo e ne posizioniamo ognuno su un'estremità della funivia. Ora, se siete messi bene con armi, perk ed equipaggiamento proseguite pure, in alternativa se non lasciate l'ultima unità di uranio per terra, tipo dentro al laboratorio. Ma non aggiungetela ancora agli altri pezzi, perché facendolo partirà direttamente la boss fight e vi assicuro che vi serviranno armi che facciano molto molto danno e almeno perk base come Quick, Juggernaug e Speedcola. Poi ovviamente se avete soldi abbondate, diciamo che l'importante è che le vostre armi siano potenziate e secondo me anche che almeno una persona abbia la Wonder Weapon, magari quella base, perché alla fine sparirà per due con solamente le vostre munizioni, quindi doppio danno. Prendete anche poi la macchina mortale, scimmiette e sarete così pronti ad affrontare la boss fight di Mauer del Toten. Però questa come si svolge? Allora, dopo una breve presentazione di Valentina, incominceranno a nascere orde infinite di zombie, sia speciali che classici. Allo stesso modo però dovrete stare attenti anche ai suoi attacchi, quindi agli attacchi del boss. Ce ne saranno due in particolare che vi daranno fastidio. Uno in cui prenderà la mira su un singolo player e gli continuerà a lanciare addosso dei cristalli, che ovviamente infleggeranno un buon quantitativo di danno, e l'altro decisamente più forte, che se non starete attenti finirete direttamente a terra. Capirete l'inizio di questo attacco perché l'aria incomincerà a diventare azzurra, praticamente, e in quel momento voi dovrete andare a ripararvi dietro ad un oggetto, se no potreste rischiare l'endgame. Tutto questo ovviamente mentre sarete impegnati a fare danno a Valentina, la quale sarà protetta da uno scudo che periodicamente ricomparirà. Quindi il vostro scopo sarà quello di distruggerlo per poi colpirla direttamente. Dopo averla danneggiata un po' si sposterà, e voi lì sarete per un attimo liberi per tutta la mappa. Potrete quindi approfittarne per prendere munizioni, perk, o anche per potenziare al pack a punch. In ogni caso poi raggiungetela di nuovo e avrete le stesse dinamiche viste fino ad ora, per un totale di 4 volte. Fino a che poi lei non ritornerà al laboratorio, e sarà qui che, se vi sarete mossi correttamente, avrete battuto il boss. Ah, poi ci sarà una mossa che farà ogni tanto, dove praticamente fa comparire 5 zombie, ed ognuno ne risucchierà un po' di vita. Quindi per evitare di ritornare al punto di partenza, sparate gli zombie in volo intorno a lei il prima possibile. Poi, dopo averla sconfitta, cadrà per terra. Li avvicinate, e premendo un quadrato, la catturerete. Partirà poco dopo una prima cutscene, e dico prima, perché qui Klaus si prenderà la responsabilità di trasportare la bomba all'interno del portale per poi farla detonare. In poche parole, sacrificandosi. E quindi, finita la prima cutscene, torneremo in game, e noi dovremo proteggerlo fino a che non arriverà in fondo, facendo partire l'ultima cinematica. E arrivati a questo punto ragazzuogli, avrete finito anche l'isterg della mappa Mauer der Toten. Io direi che abbiamo visto tutto quello che serviva, se vi è stato utile lascia un bel like, iscriviti per rimanere sempre aggiornato, e in caso di problemi scrivimi pure nei commenti. Da Prisma per il momento, bella.